I programmi di Real Time arrivano in edicola, Paint Your Life Magazine. Barbara ci svela i segreti del bricolage e del fai da te. E ancora, Torta in Corso Magazine, impara l'arte del cake design con i consigli di Renato. Non perdere le nuove riviste dei programmi di Real Time. Corri in edicola!